Buonasera agricoltori, come va? La primavera è finalmente arrivata, finalmente è arrivato il sole e qui sta per arrivare l'acqua nelle risaie, però stavolta è non dall'alto, ma bensì dai canali di irrigazione. Quindi i lavori agricoli sono ripresi alla grande, da voi, fatemi sapere se anche da voi sono ripresi e che cosa state facendo. In questo video vedrete qualche Massi Ferguson in narratura, ma soprattutto vedrete la mia sigla. Quindi fatemi sapere se vi piace, se non vi piace, se la posso mettere, se la devo togliere, se la volete più bella me la fate voi e basta. Quindi sigla! Grazie a tutti! 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 per vedere tutti i video che pubblico, seguimi su tutti i social network, ogni tanto pubblico, ogni tanto no, perché ogni tanto lavoro. com'è la visione è un'altra è un'altra, un'altra è un'altra è una cosa, un'altra è un'altra è un'altra. Grazie.